Ciao a tutti, qualche secondo per la copertina. Allora, dicevo che avrei parlato di Mandibules, Mandibule, non so come si pronunci. Finalmente un film che per questa edizione è tutto sommato per me deludente, di Venezia 77, che mi ha veramente restituito il piacere della visione e del cinema. E non solo a me, perché sentivo poi in sala parecchie risate. Stiamo parlando di questa commedia francese, esilarante, che è un soggetto brevissimo. Allora, questo personaggio strano, strambo, vive un po' come un barbone, un'inaffidabile. Così, insomma, gli viene affidata questa missione, devo dire, semplicemente trasportare, prendere la valigetta, andare a ritirare una valigetta in macchina, trasportarla da un'altra parte, farsi pagare e a posto. E quindi poter sbarcare il lunario, almeno per una settimana, o di più, insomma, per i soldi che deve ricevere. Stiamo parlando di chissà che cifre, però, insomma, per uno che fa la sua vita. Cosa fa? Durante il viaggio carica un altro suo amico e decide di coinvolgerlo nella missione. A un certo punto la macchina fa i rumori, loro si fermano, aprono il baule e c'è dentro una mosca gigante. Cioè, una mosca proprio, mosca d'insetto, proprio gigantesca. Ok? E allora, lì viene l'idea, dove dicono, la mano dei due, viene l'idea del... Invece di andare a prendere la valigetta, perché c'è il bagagliare occupato della mosca, gli viene la brillante idea, potremmo ammaestrare la mosca, così la usiamo come un drone e ci recupera tutto quello che vogliamo. Non abbiamo bisogno di soldi e niente, perché lei ci fa proprio quasi come Canada Report e quindi va a recuperarci il cibo, va a fare le rapine in banca. Insomma, questa è la premessa da cui parte il film. Il film, dicevo, è esilarante, ha questo pizzico di surreale. I due personaggi ricordano molto... Il protagonista, se vogliamo, ha un po' questo aspetto e questo stile che può sembrare un po' uno, alla fine, in pace, uno un po' come il drugo delle grandi le boschi e poi i loro due insiemi, questi due amici, richiamano, secondo me, in modo abbastanza evidente, scemo e più scemo, appunto, il film dove c'erano Jim Carrey e Jeff Daniels. E, dicevo, il film è molto, molto divertente, è estremamente semplice e, tra l'altro, ha diverse, diverse gag, anche con un pizzico ogni tanto di black humor o ironia un pochino cinica che, secondo me, ci sta, ci sta benissimo, proprio la ciliegina sulla torta. Il film non ha, chissà, ovviamente, che messaggio particolarmente, è, come dire, elevato, complesso, l'importante, però, appunto, è scritto bene, è ben raccontato, è tutto molto semplice e segue, cioè, è quasi da manuale, il processo, i passaggi che vengono, che vengono fatti. Oddio, non stai dicendo che tutte le regolette siano rispettate o debbono essere rispettate? Assolutamente no. Però è un film, finalmente, dove si nota una padronanza della scrittura, dove il personaggio, appunto, ha una loro evoluzione, il loro percorso. Si arriva alla fine con l'esplicitazione del tema e del messaggio, ripeto, molto semplice. Uno di quei messaggi che, tra l'altro, a prescindere che si creda o no, sono quei messaggi che fanno bene all'anima, nel senso che è bello credere e, alla fine, il tema è anche un po' questo, è quello dell'amicizia, del rapporto tra questi due, che ne combinano di ogni durante questo loro percorso, durante questo loro viaggio, e nulla. Quindi, in un'edizione, secondo me, è scevra, purtroppo, di film appaganti, Ok, a parte, vabbè, Night in Paradise, che è quello, secondo me, veramente, tra quelli che ho visto, e non li ho visti tutti, ovviamente, è il, secondo me, rimane il migliore, e poi, appunto, ci metterei all'opposto, proprio come mood, come colori, anche con questa fotografia, anche qua, proprio particolarmente con colori caldi, con colori gioiosi. È proprio uno di quei film, secondo me, che il pubblico, in questo momento, dopo una pandemia, dopo tutta una serie di vicende, e momenti che sta passando, è proprio il film che avrebbe bisogno di vedere. Commedia Francese, io la consiglio vivamente, fatemi sapere se la vedete, se questo video vi è piaciuto, adesso faccio la marchetta, ovviamente, mettete un like, e magari, appunto, commentate che ne parliamo. Speriamo che esca, davvero. Grazie a tutti, alla prossima!